Ciao a tutti da Al Saludatore, eccomi qui con il grandissimo Angelo Binaghi, direttore del tennis e tu sei un mito e ti chiedo un saluto a tutti quanti i fan del tennis Grandissimo, oramai sono di età, i fan del tennis vedo con piacere che aumentano e quindi il saluto e continuate a godervi questo bellissimo sport, e anche il padel Il padel, ecco, diamo l'anticipazione Padel, faremo il torneo più grande del mondo qua tra 15 giorni al fuori tarico Ti devo regalare questa, che te la meriti, la manina del Saludatore per salutare tutti i fan e tutta la Sardegna Salutiamola, ciao, grazie, ciao